Ciao a tutti, mi chiamo Matteo e sono il papà di due bambini che vanno a scuola. Non hanno voglia di studiare perché è noioso. Anche gli altri genitori sono frustrati. Perché ci sono delle cose che possiamo studiare al posto loro, e poi fargli un riassunto. Ma altre devono impararle da soli. Questo crea scarsi risultati che comprendiamo bene. Le tabelline sono una base, ma non ci dedicano tempo. Per questo ho creato Tabelline Plus, un'app divertente per studiare le tabelline. Scegli l'argomento che preferisci. Nel gioco c'è una progressione che ti invoglia a proseguire. In base al livello raggiunto cambia il disegno principale. Si comincia con un disegno base, con 5 operazioni giuste cambia. Con 10 cambia di nuovo, poi con 20, poi con 40, ma il personaggio è segreto. E con 80, l'ultimo, ma è un segreto anche quello. Con questo metodo i bambini sono incentivati a studiare. Per vedere cosa contengono i pacchi regalo, naturalmente i bambini sono furbi. Quando arrivano ad 80, e sbloccano l'ultimo regalo, pensano di cambiare percorso e vedere anche gli altri. Ma ogni percorso ha il suo salvataggio, che memorizza le risposte esatte. Se ha difficoltà con qualche tabellina può ripassarla a schermo. Se vuole può cambiare lo stile grafico, più serio o più allegro. Può anche scegliere di far leggere le operazioni ed i risultati. Se tenere il sonoro dei tasti o la vibrazione. Se anche tu hai qualcuno che deve studiare le tabelline, prova ad installarla. o condividi questo video con chi ha lo stesso problema.